Salve, in questo video cambierò la batteria a questo smartwatch Samsung Gear SMV700. Sigla! Il problema di questo orologio è che non si accende e non carica. A volte compariva per un istante il simbolo della batteria. Tempo fa è già stata usata la procedura di riattivazione della batteria, tenendolo collegato al PC col cavo USB, ma adesso non dà più segno di vita, per cui l'unica cosa che resta da fare è cambiare la batteria. Per aprirlo uso un giravite con punta Torx per togliere le quattro viti sotto la scocca del dispositivo. A questo punto uso un plettro per fare leva tra il bordo metallico della cassa e la parte in plastica. Ecco, si sta aprendo. Bisogna fare attenzione a non tirare troppo perché si può staccare il flex del display. Adesso devo svitare le due viti di blocco del connettore. Faccio notare che la placca di metallo che tiene ferma la batteria viene via da sola. Facendo poi leva con un'attrezzo in plastica, stacco il connettore del display dalla scheda principale. Si vede la batteria che è un po' gonfia. La batteria poi viene via facilmente tirando la linguetta sul lato. Adesso prepariamo il ricambio nuovo tra la bustina. tolgo la protezione sull'adesivo della batteria così la posso posizionare. Ah, ecco, ho dimenticato che c'è da levare il copri adesivo sotto i contatti della batteria. Riposizioniamo. Ecco, stavolta va bene. Adesso riaggancio il connettore del display e rimetto le due viti di fissaggio. E' l'avono. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.